I supermercati Sorelle e Fratelli Puleo comunicano l'apertura di un nuovo punto vendita presso la piazza commerciale Levante. Un originale spazio gradevole e accogliente dove fare la spesa, con un comodo posteggio coperto e tante opportunità. Nei supermercati Sorelle e Fratelli Puleo troverete ampio assortimento, promozioni settimanali, servizio ad omicilio e nel nuovo punto vendita, orario continuato dalle 9 alle 21, anche la domenica. Vieni a trovarci a Bagheria nei nostri tradizionali punti vendita, di via Alcide De Gasperi, di via Rocco Chinnici e di via Papa Giovanni. E naturalmente, vieni a conoscere la nuova realtà della piazza commerciale Levante, supermercati Sorelle e Fratelli Puleo, dove fare la spesa è un piacere e soprattutto conviene.